Oggi vi presentiamo il forno a legna Allegro, il top della gamma Forninox. Lo sportello in dotazione vi aiuterà nella regolazione della temperatura e nella cottura dei cibi. I due ripiani laterali possono essere aperti e chiusi in pochi secondi per aiutarvi nelle operazioni di cottura o stesura della pizza. Il vano inferiore rende il prodotto completo e perfetto per grandi feste con tante persone. Grazie al piano cottura molto grande si potranno cuocere fino a 6 pizze per volta e 6 kg di pane. Il forno Allegro ha 4 comode ruote che lo rendono mobile all'occorrenza. Dalle forme arrotondate e avvolgenti per coloro che amano organizzare cene con amici e parenti. Dalle forme arrotondate e avvolgenti per coloro che amano organizzare cene con amici e parenti. Allegro, il forno a legna è di casa.